Ok, benvenuti in questo nuovo video. Oggi giocheremo per la prima volta a Blue Stars. In una stella mi è uscito questa stella. Adesso andremo a fare la prima partita. Cos'è questo? E' uscito. Adesso andremo a fare la prima partita. E' uscito. E' uscito. ... ... ... ... ... si avviene vabbè vabbè il percorso vabbè vabbè ma c'è un paese adesso mettiamo footblower non mi piace tanto quella mappa che ho fatto prima vediamo footblower che c'è qui ah c'è un po' di calcio vai amica lancia le bastiglie mandatela a falla aiuto ma non no no non dai ti puoi clare in freddo ok stai No! No! Watch out, here I come! Ok! Andiamo! Doi devo andare a fregare? Si! Prega voi bella, cambia la schiena Non guarda la schiena Non guarda la schiena Non guarda la schiena Non guarda la schiena Ok, mori Eh, amico, faccia un giame a fare gol Dai, scusami il ciclo Non guarda la schiena Ok, tu mori Anche tu Ok, devo prendere la palla Devo andare a fare gol No, dai, sono troppo forti Dai, 8-10 secondi che troverò Nooo 6 secondi 3rd 6th E quelle opinione notizie 1966 Questa visita Due Troppo E e devo andare a fare voi no speriamo che finisce il timer ora finisce più la partita mamma mia per un pelo scopareggio partita conclusa ma chi ha vinto? abbiamo perso tutti ok adesso vado a prendere un'altra skin ok mi è uscita questa skin di bull ok dobbiamo vincere stavolta ma chi ha vinto? ma chi ha vinto? ah non mi piace quella bomba è stagliato dobbiamo fare l'ultima bomba abbiamo vinto ok prossima partita con rosa ma chi ha vinto? ma chi ha vinto? ma chi ha vinto? ma chi ha vinto? e il mio prossimo non dobbiamo farli fare voi e poi andiamo così si questa cosa non mi sembra tanto bella adesso mi sembra bella ecco qua la mia skin adesso dobbiamo fare anche questa partita un gol e qui no ma questo taglio a B che lo vuoi facciare ok devo andare qui primo gol vogliamo fare un secondo gol no ma questo qua è il nabo no ma questo qua è il nabo meglio questa ok prossima partita ho creso nita ho creso nita Mica mi sembra forte Mica Vai per quello Prende io la palla grazie Vado a fare bene Si Ho comprato il primo Adesso vado a giocare con il primo Ok sono pronto Il primo Il primo Enfante Il primo Il primo Il primo ecco qua la mia skin di pocho adesso andiamo a giocare anche con pocho facciamo uno di uno dai non possiamo guardare con pocho mi metto qua l'angolino ok adesso non ho visto non ho visto adesso andiamo a giocare l'angolino ecco qua bombardino adesso andiamo a giocare anche con questa skin gol 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 ready for another ready for another gol 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 go ma dai no abbiamo perso il video può anche finire qui se questo video vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale e iscrivetevi nei commenti quale schien vi è piaciuto noi ci vediamo in un'altra nuovissima video ciao